C'è il Calvino prima maniera, quello dei poemi cavallereschi come il Visconte di Mezzato e il Barone Rampante e il Calvino che elabora e progetta delle città invisibili. Chi può dire di conoscere a fondo la sua cifra stilistica o di conoscere tutte le sue opere? Anche per Calvino c'è una zona, non dico d'ombra, ma di materiale non approfondito. Rischia di essere uno di quegli autori di cui tutti dicono, ah sì, Calvino, e poi magari hanno letto una storia di Marco Valdo o, benché vada, una storia dei nostri antenati. Ma Calvino ha una produzione ben oltre una o due opere. Nell'anno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Italo Calvino, la Società Economica ha organizzato un ciclo di letture dedicato all'autore che si concluderà giovedì 1 giugno con un convegno internazionale alle 15 alla Società Economica in occasione del Festival della Parola. Mi sono affidato all'amico, socio onorario della Società Economica, il professor Francesco De Nicola, perché mi buttasse giù la ricetta di un bel convegno con esperti veri. Tra i principali invitati, Vittoriano Pegna Sanchez, docente all'Università di Granada, che spiegherà come mai Calvino, considerato in Spagna uno degli autori italiani più grandi, per lungo tempo sia stato ignorato. Ma non finisce qui. Viene Giulio Ferroni, che è uno dei nomi più importanti della critica letteraria italiana, da Roma, a parlarci dello sguardo di Calvino. Lo stesso De Nicola indagherà sui racconti surreali. Pennacchio, che è uno specialista, ha già pubblicato due o tre saggi sull'ultimo Calvino, e Guagnini, da Trieste, viene a rileggerci il Calvino che forse ha contribuito di più a farlo conoscere presso un certo pubblico, cioè quello legato alla resistenza del sentiero dei Nidi di Ragno.